Ammiraglio Nelson, un eroe complicato della storia britannica Oratio Nelson, primo visconte Nelson e primo duca di Bronte, nacque il 29 settembre 1758 a Burnham Torpe, Norfolk, Inghilterra. Considerato uno dei più grandi ammiragli della storia britannica, la sua fama è legata alle sue leggendarie vittorie navali durante le guerre napoleoniche. Carriera navale. Nelson entrò a far parte della Royal Navy all'età di 12 anni e si distinse rapidamente per il suo coraggio e le sue capacità di comando. Durante la guerra d'indipendenza americana, perse l'occhio destro in un'azione di combattimento. Nel 1793, all'inizio delle guerre napoleoniche, Nelson era già un capitano di vascello. Le grandi vittorie. Battaglia di San Vincenzo 1797 Nelson sconfisse la flotta spagnola, catturando quattro vascelli da guerra. Battaglia del Nilo 1798 Nelson annientò la flotta francese ad Alessandria d'Egitto, impedendo a Napoleone di conquistare l'India. Battaglia di Trafalga 1805, Nelson ottenne una schiacciante vittoria contro la flotta franco-spagnola, assicurando il dominio britannico sui mari. Morte e fama. Nelson morì durante la battaglia di Trafalgar, colpito da un cecchino francese. La sua morte fu un lutto nazionale in Gran Bretagna, dove è ancora considerato un eroe immortale. Eredità. Nelson è considerato uno dei più grandi strateghi navali di tutti i tempi. Le sue tattiche innovative, come la linea di battaglia a doppio schieramento, rivoluzionarono la guerra navale. La sua leadership carismatica e il suo coraggio ispirarono generazioni di marinai britannici. Controversie. Nelson era un uomo complesso con lati oscuri. Fu criticato per la sua spietatezza in battaglia e per il suo sostegno alla repressione della Repubblica Napoletana. La sua relazione con Emma Hamilton, moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli, fu considerata scandalosa all'epoca. Conclusione. Ammiraglio Nelson rimane una figura controversa, ma il suo impatto sulla storia britannica e sulla guerra navale è innegabile. Le sue vittorie a San Vincenzo, Nilo e Trafalgar assicurarono la supremazia britannica sui mari e contribuirono a sconfiggere Napoleone. La sua eredità è complessa e affascinante, come l'uomo stesso. Oratio Nelson non era solo un abile ammiraglio, ma anche un uomo con una vita privata complessa e appassionata. La sua relazione più famosa fu con Emma Hamilton, moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli. La loro relazione iniziò nel 1798 e durò fino alla morte di Nelson nel 1805. Emma era una donna intelligente e affascinante, e Nelson era perdutamente innamorato. La loro relazione fu scandalosa per l'epoca, ma Nelson non se ne curò. Ruolo nella politica britannica. Nelson non era solo un uomo di mare, ma anche un uomo di politica. Era un membro del Parlamento britannico e un forte sostenitore del governo di William Pitt. Le sue vittorie navali rafforzarono la posizione della Gran Bretagna come potenza mondiale e contribuirono a sconfiggere Napoleone. Impatto sulla cultura e società britannica. Nelson era un eroe nazionale in Gran Bretagna. La sua morte a Trafalgar fu un lutto nazionale e la sua fama è rimasta viva fino ai giorni nostri. La sua immagine è stata usata in molti modi, dalla propaganda politica alle opere d'arte. Eredità nel mondo navale odierno, Nelson è ancora considerato uno dei più grandi ammiragli di tutti i tempi. Le sue tattiche navali sono ancora studiate nelle accademie navali di tutto il mondo. La Royal Navy britannica ha una nave da guerra chiamata HMS Nelson in suo onore. Nelson rimane una figura complessa e affascinante. La sua eredità è vasta e il suo impatto sulla storia britannica e mondiale è innegabile. Il suo coraggio, la sua leadership e le sue abilità navali lo rendono uno dei personaggi più importanti della storia moderna.